Comincia la ripresa della distribuzione idrica in città nelle zone H24 a pieno regime entro il primo dell'anno. Queste le novità fornite da Caltacqua attraverso un comunicato. Nella giornata precedente infatti c'era stata una riduzione della portata idrica del 50% nel comune di Caltanissetta che aveva comportato l'interruzione nelle zone H24 tranne per ospedale, carcere, centro storico, strada foglia. La nuova comunicazione di fine anno invece annuncia che Sicilia Acqua ha riattivato l'esercizio dell'acquedotto Ancipa e mentre nel comune di Mazzarino grazie all'utilizzo delle fonti proprie non sarebbero stati riscontrati i disservizi a Caltanissetta la distribuzione dovrebbe tornare alla normalità entro il primo dell'anno. Nelle zone H24 e anche in tutte le rimanenti la ripresa avverrà l'1 gennaio 2022.